Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Vecinz e bentornati su Fortnite. Oggi uscirà solo un video, andremo a fare delle partite in singolo e cominciamo. Ah ragazzi, non so se lo sapete, ma ho sbloccato questo qui. Credo che ve l'ho già fatto vedere nello scorso video di Fortnite. Andiamo a fare la prima partita. Ok ragazzi, ci siamo, siamo in una lobby. Eh, vabbè, non ce ne ho mai stato così tanto, tanto in una lobby. E tra l'altro devo fare ancora quella missione della giornaliera di posizionarsi nella top 6 nelle squadre, cioè nella partita a squadre. Quindi, non lo so, andiamo a picco, picco polare, picco polare. Vediamo se riusciamo a fare un atterraggio perfetto sul castello. Mi sa che ci atterriamo bene. No, ci atterraggio prima. Lui ha preso il pompa, quindi noi ce ne andiamo subito a... Dove ce ne andiamo, no? Ce ne andiamo a luta... No, là ce n'è un altro. Vabbè, ci lutiamo questa cosa schifosa... Che c'è qua? Ok, ok. Atterriamo subito su questa casa che c'è una cesta. Prendiamo su... No, è ancora peggio. Aspetta, qua c'è... Una pistola. Vediamo se c'è... Uh, mitraglietta, buono. Vediamo se riusciamo a prendere con la prenditura. Anche se... Oh, vi fa prendere... Ok. Anche se... Siamo in safe, la possiamo usare pure per... Allora, passiamo a formare. Questa è un falò che prendiamo. Lì sta una cesta. Pomp, però non c'è il pompa. Oh, siamo full shield. Ok, l'abbassi. Prendiamo quei colpi e poi ci andiamo a lutare... Questa cosa. Non è male che qui non c'è nessuno perché... Ho solo una mitraglietta e un M4 bianco, tra l'altro. Cioè, bianco è tutto e due. Uh, buono questa pompa. Due pompa, tra l'altro. Questa faccio il primo una cesta. Non mi interessa. Ma che le spacco se non ci danno materiali? Ci nutiamo questa casetta. Oh, una mitraglietta. Tutte armi che già ho. Incredibile. Sì, do qualcuno jumparsi, quindi non è cosa buona. Spaccare qui e troverò una bella sorpresa. Ok. Vabbè, prendiamo una mitragliatrice. Fermiamo un po' di materiali e poi ce ne andiamo da qui. Ragazzi, a me non piace la minigun. Non la so usare molto bene, però... La prendo perché... Dunque, se non ho munizione... Eppure, non so... Può servire. Se dovete fermare del legno... Se dovete fermare del legno... Spaccate le staccionate perché sono piccole, però vi danno un botto di legno... Spaccate le staccionate perché sono piccole, però vi danno un botto di legno... Buon appetito... Quante se lì c'è una cesta quindi ma questo delle munizioni non male prendiamo questo anzi non scendiamo ci lutiamo sta cosa abbiamo rotto no è già lutata vabbè se c'è qualche cannone possiamo usarlo per andarcene da qui perchè non voglio sprecare la venditura ah c'è un bel cannone allora sterziamo il cannone e lo mettiamo scendiamo arriviamo su quella collina e mi sparo ok arrivati sulla collina possiamo metterci qui inseriamoci e spariamo aaaaaaaaaaaaaaah figata vabbè è durato poco la casetta che l'ho dato io prima giusto si e raga io direi di andare a Borgo Allegro perché tra l'altro raga sono rimaste 14 persone a Borgo Allegro non ci dovrebbe essere nessuno per quanto ne so io perché di solito a Borgo Allegro non lo luta mai nessuno prima di andarci vediamo se c'è qualcuno no non dovrebbe esserci nessuno riesco a prendermi gli scildini c'è qualcuno raga aiuto in questa casa in questa casa in questa casa Sendo vicinissimo STRONZO mia amace da quelle trappe stronzo non ci credo gian marchino 96 stone hub no vabbè ragazzi prima partita siamo arrivati a questo un buon inizio dai piano piano non ci vediamo la vittoria reale ok allora ragazzi facciamo un'altra partita in singolo ora ho sbloccato questo ballo che è super figo sembra tipo sofferente che saluta salve a te tra l'altro mi manca mi mancano tre stelle cioè tre cose per fare per fare il per arrivare al livello 15 del pass battaglia e quindi sbloccare serpenti come si chiama serpenti dei cieli fatti perché molti miei amici che giocano a forte mi hanno detto che è molto è molto brutto come deltaplano non lo so boh io non sono del loro parere non l'ho ancora provato quindi quando lo sbloccherò proverò lo proverò stavolta ci andiamo a buttare nel vulcano ragazzi andiamo di qua perché si fa prima ah no no cavolo perché sono andato di là beh forse riusciamo ad entrare pure di qua ma io si si entriamo di qua entriamo di qua eh vabbè ci schizzaglia il vulcano no cavolo perché nooo no raga vai corri che forse non è arrivato ancora nessuno è arrivato qualcuno raga ho provato a fare amicizia però no poi non sto manzetto quello eh oh tutti quelli che mi ha messo sono italiani si chiama leonardo gasper 04 vabbè leonardo se non è italiano leonardo si chiama vabbè ragazzi proviamo a farne un'altra ehm 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 improvvisato ehm però ci facciamo una coppia con domenico non so se mi sente ok l'abbiamo fatto insieme le motte vai facciamo questa partita tra l'altro ragazzi fatemi sapere se volete se volete che porti sul canale ehm tipo FIFA 19 perché dovete sapere che io gioco c'è anche FIFA 19 ok 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 il quartiere è il quartiere si ah è cambiato il quartiere beh raga io non ci vado mai al quartiere quindi ehm qui non so boh ma c'è ancora la cassa boh ma che è sta cosa un ragno una tartaruga che cos'è mio dio vedo qua che c'è una cesta già vista ecco qua l'arma migliore che poteva trovare lm4 si possiamo anche modificare questo perché non lo posso modificare questo lo posso modificare entriamo qua dentro dico qua dentro perché non so cos'è oh subito secondo me è un ragno può essere può essere un ragno oppure una costruzione a caso del ferro ovviamente una costruzione di ferro può mancare il ferro però qua c'è proprio un loot di cacca c'è proprio niente di loot ah ma allora è una tartaruga perché sbicino c'è la tartarugina piccola dove vai tu perché io ho solo un m4 e una deagle morta 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 traietta traietta pompa oh mio dio oh mio dio le munizioni del pompa eh allora le munizioni del pompa io non ne ho proprio domani ne ho zero ne ho solo tre ma sono nella nella canna del fucile cioè nel fucile della bomba prima prima kill per noi ragazzi c'è una bella cesta che prende mio cugino ovviamente non mi lascia niente che hai trovato? ma lo lasci a me? scusi tu che hai? come assalto tu che hai? ma è duro ma è duro? è duro che culo lo scaroro ha trovato prendiamo un po' di materiali direi che possiamo anche andarci da qui visto che c'è un lutto un po' di schifoso un po' schifoso il lutto qui anche se ho trovato una digol leggendaria che non trovo mai che c'è scusate c'è un bel niente bende io preferisco portarmi gli scildini ragazzi perché sono più veloci da fare ti danno 15 di scudo ma che culo ha trovato il barrette? oggi non ho troppo culo perché non l'ho preso io lì? da me ce ne andiamo? bisogna qualcuno con lo snowboard eh? come si chiama il drift board? guarda guarda che c'è nella macchinetta non c'è granate per le... no no non conviene non conviene poi il lanciacarnata non lo so usare quindi ma tu sei già full legno come fai? e vabbè da controllare è più facile switchare l'oro e vabbè da controllare è più facile switchare l'oro ok ok non laghi più ok ma non ci arrivo da me sparano ok 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 andiamo lì ci arrivo ci arrivo proprio pelo pelo sparano cavolo mi hanno preso è solo una pistolina ma te lo sei preso il jack jack? di quello lì? dello scar dello scar non solo 58 vabbè tenete un po' ma no scusa sono questi? eh ora ne ho 44 tu quanti ne hai? vabbè eh ma perchè ti troppo scar dov'è? non non questo cavolo è perfetto uno c'ha lo dato questo perché lo dà? non 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 c'è anche non sch a 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 che volevo aprire la piramide a 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